Nuovi cartelli in braille nei cimiteri di Piacenza, anche i dettagli fanno la differenza verso una maggiore inclusione della popolazione, così nel camposanto urbano in via Caorsana, nonché in quelli alle porte della città. La ditta concessionaria sanitaria servizi ambientali ha avviato l'installazione di segnaletica, in particolare agli ingressi, tradotta con il sistema di lettura tattile a rilievo fondamentale per permettere l'orientamento degli utenti con disabilità visiva. Ora con il braille impresso sulle grafiche, quindi i cittadini non vedenti potranno individuare i vari reparti con più semplicità, oltre che conoscere gli orari di accesso all'area. Intanto prosegue anche il maxipiano di riqualificazione del cimitero urbano in via Caorsana e delle strutture frazionali. Proprio in questi giorni gli operai stanno provvedendo alla pulizia non eseguita da anni dei tetti del sesto reparto confinante con il cementificio. I detriti accumulati causavano molti disagi perché la pioggia finiva sulle pareti e all'interno delle gallerie. Il pacchetto di lavori, atteso da tempo, rientra nell'accordo di partenariato pubblico privato, siglato tra l'azienda sanitaria servizi ambientali e il comune di Piacenza. Decisivo è stato l'affidamento del cosiddetto project financing di 15 anni per la gestione degli impianti cimiteriali con il raggruppamento di imprese. Il valore complessivo dell'assegnazione, lo ricordiamo, è di circa 20 milioni di euro.